VAMPIRE QUIN B Volevo dedicarmi ai due nostri piccoli gemellini rompiscatole perché mancano quattro giorni e purtroppo siamo in alto mare con le abilità. Siamo in alto mare con le abilità, ora vorrei solo farvi notare una cosa che Pearl è molto flirtante e qui c'è Kyle e vi posso assicurare che fino a due minuti fa loro due si sbacciucchiavano come se nulla fosse e intanto Salim era qui che stava dipingendo. Cioè povero Salim ora tanto però già che ci sei riprendi pure il dipinto e si riprendi a scrivere la piccola Sibilla. Tu, allora, tu dovremmo occuparci della tua aspiration quindi, dov'è? In vita nel lotto attuale. Dov'è? Non lo vedo io. Ah, Giofrino. E proviamo Clemente Gelu. Ora Sì, dormi Ok, e dormi Perché purtroppo hanno anche l'energia non bassa di più. Dove mi mollate i piatti? Eccolo qua. Siamo qui. Oh Ok Oh, come livello di celebrità perduto? Per la trascurata troppo tempo Lontano Oh, come mi dispiace Anche se sinceramente Non Ma hai mangiato? Ma Mangia Mangia Toppino, mangia Che qui Bravo Caleb Ciao, vieni al collezionista Via, via Meglio che non fai danni, Caleb Ah Ora Prima Cura dei neonati super efficiente E poi E Uh Ci abbiamo Clemente Gelu Dopo Vole qui come un pipistroll Ma Dove è Gioffri? A me interessava Gioffri Temo che abbia capito il motivo Perché l'abbiamo spinto a venirci a trovare Ora Rallegram Discuti dell'umore stressato Oh, povero Su Dai Bobbo Non essere così stressato Complimentati Sincero Complimento Sincero Tranquilla Racconta Racconta una barzelletta Sulla moda Chiedi di donare Che È arrivato Barzelletta Toc Toc Ma Che cosa Fermo Ma No Racconta una storia buffa Però Cioè Mi fa pena Impara a conoscere Ma Che Babbo Bravo Vai a dormire adesso Tu Nano pistifero Babbo No Abbraccia Babbo Ah, ok Non riuscivo a vedere Babbo inverno triste No Dopo Dopo lo faccio Beh Non è possibile Vedere Babbo inverno triste Chiedi dalla carriera Rallegra Come scusami Come Consola per la morte Di chi scusatemi Chi La morte di chi scusatemi Cioè Scopriamo che Babbo inverno è morto Adotto Babbo inverno è morto No Ancora vivo Oh Ti uccido Adula Oh bravo Salim Oh No Ma Oh Vi prego Non ditemi Nel senso Che sono per la morte Di Lilith Cioè Oh Per l'amor Del cielo Mi racconto Mi racconto una barzelletta Sui politici E volvere Ti prego Abbraccia Adula Lavoro No Allora Salim Primo Allora Vende un editore La piccola Sibilla Dopo acchiappa la posta E No Sì Sì Allora Prendi una porsione Tu non puoi cucinare Oh Perché non puoi Ma come Cucina Perché non c'è più Macedonia Vabbè Allora Allora Andiamo Il trassacchetto Dove vai? Dove? Allora Racconto una barzelletta Sulla moda Sì 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 L'abbraccia E No No Vabbè Vanno attorno Ah Sì Pardon Bevi plasma E Chiedi il permesso di bere Intanto Sei cattivo Sei cattivo Costringe una bevuta profonda Ma temo che Dai Ci No Temo che no No Temo che purtroppo Non succederà Per il semplice fatto Che ci ha già provato prima Questa È la triste fine Di chi non dice sì Alla nostra Queen Bee Quindi Ciao ciao Joffrey È stato bello vederti Ora Ri Sì Sì lo so Che te ne intendi Chi è Don Ah Sì Grazie Ok Cucina Ok Formato Diciamo Pure Festa Cavolo E Allora Sveglia E Sveglia Piccolo Nick Sveglia Anche tu Judy Vasino Per entrambi Sì sì Va bene Non mi interessa Ma cosa Ah ok Dicevo Vabbè Dai Ripulisci Ripulisci E dopo Visto che Già c'è Anche il Riprendi Il dipinto Classico Però Notavo Che La barra Della Sete Di Salim Non è mai Stata così Dura Da riempire Uh Grazie Oh Quando si presenta Di noi Sim Pearl Ha la possibilità Di iniziare La relazione Con un livello Di amicizia Più alto Ora la sua Reputazione La precede Certo Beh Che reputazione Allora Hai mangiato? Ora Direi di Riprovare No Con il nostro Amico Clemente Gelo Non dormire Sim Guru Onorario Percentore Wow No Vasino Visto che ci siamo qua Ma che Anche tu E non darti All'alcol Sì Chiamano a te No Su Stai Buono Abbraccia Adula Credo Non l'abbia fatto Per sbagliare Ok Lasciali Lasciali Vende un collezionista Tu Giusto Scatto una foto con Elisa Pancake No Elisa Pancake Proprio anche No Ho svolto No Ho svolto la ricerca Sui vampiri Saputo che esiste Una cura Sì va bene Maremmo Questa sarà la foto onoraria Ma che carini Che carini Insieme E Già che ci siamo Di Scatto una foto Di Di Vediamo Come si mette in posa Clemente Gelo Ma che bel figurino Ora Dopo Questo bel set fotografico E Avrò ancora fatto Un attimo Adula Parla Di sogni Diceo E dopo Va bene Descrivi la nuova idea No Complimentati per l'abito Sì perché È Straordinario Ancora No Gioca a forma sim Che ti dormi Che M'ha smollato di nuovo Il tablet E Forme Tu Pulisci E pulisci E pulisci E pulisci E pulisci Anche tu Anche tu Anche tu Parla Allo Sfini E Mento Bene Abbiamo No Dove è andato Proprio gelo Proprio gelo Molla Molla Fermo Qui Oh oh Babbino E che E quante Aggiungi il gruppo E vieni qui Non Piangere per Lilith Per favore Proviamo l'ultima con Chiedi il permesso di bere Dopo Dopo pensiamo anche alla piccola Avanti Anche lui Neanche a parlare Tieni 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 alla larga Alla larga da me Con quei canini Peccato che ha già bevuto Oh Bravo Salim Quando vuoi Qualcosa lo sai fare Ma Non Ma chi Ha sboccato Ah è vero Abbiamo Abbiamo messo La sboccato Ho fatto qualche piccolo Vomita No Conversazione Chiacchiericcio Amichevole E cambio il pannolino Sporco dopo Io odio Babbo inverno Tu come sei messa Oddio Tra tutti e due Più o meno Ci siamo quasi Anche a livello 3 di movimento Quindi si Gioca A blocco Blick E poi Dormi Direi che Nick Si sta arrivando Più bravo Ah no Questo è il suo sorello Ho sbagliato Comunicazione Parla Ma forse ci siamo Oh bravo Nick Ora direi che Puoi ancora usare Di nuovo il vasino E poi si va a dormire Ma Oh bene Tutti e due Bravi 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 Un movimento È vero Dai su Oh Qui era il tablet di suo fratello Che Il suo L'ha Smarrito Ora Due Ok Giardinaggio Alta cucina Oh C'è ancora qui Vediamo Le Piante Si Innaffia tutto Oh È vero Fertilizza Qui Niente Bene Bravo Anche la mia piccola Shearley Ora Direi che Mentre Pearl Si dedica A che Caspita Al Giardinaggio Sperando che Mi salga La Dicevo Mentre Pearl Si dedica Al giardinaggio Direi che Possiamo concludere Qua l'episodio Perché non voglio tirarla troppo per le lunghe E in realtà doveva essere un episodio dedicato ai miei nanerottoli È venuto fuori la solita ennesima negazione per Pearl di poter bere Sì Credo che non riusciremo mai a completarla Perché prima che riesca a trovare qualcuno che le dia alcun senso per bere Si farà notte Si farà Non so cosa si farà Si farà Vecchia Quindi direi che Se il video vi è piaciuto Mettete mi piace Commentate 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 Ma soprattutto Follow me now Follow me now Follow me Follow me now Ye 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 Ci rivediamo Al prossimo episodio Konnichiwa Al prossimo episodio